salve a tutti ragazzi qui è andres siamo su un nuovo video per quanto riguarda pokemon tgc online o gcc online ovviamente altro spacchettamento violento stavolta insieme ad un ospite veramente speciale come ogni volta ovvero il cameraman di tutti luca eccoci qua ciao ragazzi molto contento peggio contentissimo contentissimo di essere qua al cameraman oggi pazzesco adesso noi andiamo ad aprire caro luca sole e luna attenzione c'è interessante attenzione vince ovviamente chi trova più gx ok ok allora ovviamente ricordo che il cameraman è ancora un po arrugginito quindi sotto nei commenti se volete dargli qualche consiglio è ben accetto ovviamente su questi pack adesso iniziamo subito con 5 pacchetti a testa e parte chi parte puoi partire te puoi prendere chi parte vertical parte te parto io sto giro parto io ok parte il padrone di casa e andiamo subito con questo pack ok energia la notta sta full attenzione mi ha trovato un corso all'olografico con surf 60 sempre donald trump abbiamo jungos e la rara ragazzi è un bellissimo subito umbreon gx con 200 punti vita mitragliare che toglie tenta tardo bomba 90 e richiamo oscuro gx pazzesco veramente ma veramente pazzesco il cameraman ci ha voluto cedere il posto per aprire e noi l'abbiamo immediatamente infilocchiato e siamo a 1 1 0 per noi andiamo avanti con altri quattro pack ok scarmori morello livi e scendi sandigast poliswag arakwanid qui si vuole ferma la rara c'è di gastronografico e la rara è un cabo bin e ball niente da fare peccato ci avevo sperato molto peccato andiamo avanti veramente ma veramente bene con dragonair ipno attenzione carmania liam sempre molto molto ambiguo e la rara è un cosmo e abbiamo un sacco di cosmo ragazzi non so più cosa farne ok andiamo avanti con un altro pack abbiamo un cutie fly una energia arcobaleno un crocoroc recluta del team scala snabulma quita rolet drausi eccetera 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 ma ovviamente adesso andiamo sulla rara luca e chi vuoi spero in una gx per te a te vediamo e luca c'è la tira il cameraman c'è la tira attenzione ragazzi questo titolo sarà il cameraman c'è la tira andiamo con oranguru mi è andata bene devo spacchettare l'ultima partita devo ancora aprire l'ultimo pacchetto se errore l'ultimo pacchetto per noi attenzione ultimo pack dopodiché lasceremo al cameraman l'onore di sbustare per noi e per voi attenzione è uno stout land inutile male male iniziato bene è iniziato col botto e ho finito malissimo ok molto male ok tocca al cameraman noi abbiamo solo trovato se così si può dire ubero gx andiamo avanti con attenzione e questa è la prima il primo pack per il cameraman che trova un passigno molto interessante niente di più attenzione continuo pure non è una gx però non era niente gli ex chi vuole il tgx vorresti trovare qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo attenzione martello di rompente molto interessante mi interessa martello di rompente vediamo la rara è un cosmo e ne abbiamo fisso per i capelli di cosmo tali via se avessi tanti soldi quanti con sarai non sarei da un'altra parte ok bonsuit olografico carino ne abbiamo due è pazzesco e la rara è un crobat scicchettoso questo è il tuo terzo pack questo che vai ad aprire attenzione ancora non ho trovato niente nel nostro cameraman che molto male in un video è stato molto molto fortunato ma non diciamo il quale un artrix molto carino artrix carta premio carta premio alla gx e va a pareggiare luna la gx con 250 tanta roba abilità psycho transfer raggio d'ombra 120 caduta lunare gx ricordiamo che l'attacco gx si può usare solo una volta per turno per partita se fosse per turno sarebbe tanto o tanto meglio siamo uno pari e c'è l'ultimo pack se non mi sbaglio per il nostro ospite speciale ma comunque hai trovato una nuova perché questa non ce l'avevo vista pazzesco il camera ci porta a fortuna attenzione poi si potrebbe chiudere un campo con la baller olografico che non avevamo ancora vabbè insomma andiamo a meno potevo farne a meno andiamo avanti con la rara che è un bellissimo pallo sand peccato ci ho sperato anche qua ragazzi arriviamo in parità abbiamo trovato un vero gx e luna la gx ovviamente adesso io direi che per la sportività possiamo aprirne uno assieme sperando di trovare qualcosa di veramente veramente figo e quindi andiamo immediatamente sbustare in questo ultimo pacchetto troviamo proprio subito ma qui da scelder togli maru dartrix più comunque megaball diglett forma lola col ciuffettino francesco e la rara ragazzi è un deciduai carino con balde ali molto 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 carino questo deciduai e quindi non benissimo non benissimo comunque ragazzi io direi che ci siamo divertiti tanto sotto in descrizione hashtag cameraman o hashtag andres e se volete sotto in descrizione lasciate un commentino ovviamente spolliciate a manetta iscrivetevi al canale quindi noi salutiamo il cameraman e ringraziamolo di cuore grazie andres alla prossima grazie adres alla prossima adesso anche io mi ritiro nel letto come potete vedere non c'entra un cazzo quindi questa parte la tagliamo quindi ragazzi qua da andres è veramente tutto alla prossima